Sono nato e cresciuto in questo bellissimo territorio, ricco di cultura, arte e storia. Ora è arrivato il momento di contribuire in prima persona. Parlare di candidatura è facile, prendere questo impegno molto meno. Candidarsi vuol dire assumersi delle responsabilità, vuol dire avere coraggio. Voglio essere il punto di riferimento, il vostro portavoce, la figura di cui potete fidarvi. Il 10 giugno è un giorno importante, un giorno di vera democrazia. Non sprecare questa opportunità, non interrompere questo percorso. Continua a voler bene a te, al territorio, ai tuoi figli. Per un voto consapevole, vota lista numero 2, punto e a capo, con Luca De Carlo Sindaco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.